Cambiare la propria realtà non significa vivere una vita parallela. Né tantomeno rifugiarsi nel mondo della fantasia al fine di fuggire da una vita che non ci soddisfa. Cambiare la propria realtà significa conoscere meglio se stessi. Entrare in stretto contatto e sintonia con la persona che sei. Perché quello che andrai a fare realmente durante questa sessione guidata è accedere al tuo subconscio e controllarlo. Sarai in grado di visualizzare in modo vivido e pieno quello che vorrai. E soprattutto sarai in grado di sperimentare tutte le emozioni che derivano da questa magnifica esperienza. Portando con te alla fine della meditazione un ricordo sublime, intenso e meraviglioso. Sarai in grado di vivere di persona i tuoi sogni, riuscendo a modificarli a tuo piacimento. E potrai scegliere qualsiasi tipo di fantasia. Il limite è solo nella tua immaginazione. Adesso rilassati. Assicurati di approcciarti a questa nuova avventura nello stato più sereno possibile. Pensieri positivi attirano situazioni positive. Lascia che la musica si introduca nella tua mente, massaggiando delicatamente le sinapsi del tuo cervello. Le stimola ad essere più produttive. In modo tale che saranno in grado di immaginare qualsiasi cosa tu vorrai. E la stessa cosa vale per la mia voce. Lasciati guidare. Lasciati accompagnare in questo meraviglioso percorso. Tu ed io. Permettimi di mostrarti la strada. Se non lo hai già fatto, puoi chiudere gli occhi. E con gli occhi chiusi, immagina di osservare un punto al centro della tua fronte. Rilassati. E continua a fissare questo punto al centro della tua fronte. Mentre la musica in sottofondo continua a massaggiare la tua mente. Tanto che quasi non riesci a trattenere un sorriso spontaneo. Come se qualcosa stesse solleticando il tuo cranio dall'interno. e questo porta alla tua attenzione momenti felici e pensieri positivi che rilassano ulteriormente il tuo corpo. Dal punto al centro della tua fronte che stai osservando, si sviluppa adesso un punto luminoso. proprio al centro della tua fronte. Sei affascinato da questa visione e decidi di lasciarti andare ulteriormente a questa condizione. Noti che piano piano il punto luminoso comincia ad espandersi in maniera lenta e regolare. Tanto che adesso inizia a ricoprire tutto il tuo viso. Puoi immaginare la luce del colore che preferisci. La luce ora ha inondato tutta la tua testa e sempre più velocemente si dirige verso il tuo collo, le tue spalle, il tuo torace fino a scendere lungo le tue braccia. Con la stessa velocità si dirige verso la parte inferiore del tuo corpo, ricoprendola di una meravigliosa luce avvolgente che ricopre le tue cosce, le tue tibie e i tuoi piedi. In poco tempo ti ritrovi completamente avvolto da questa fantastica luce avvolgente che ti fa sentire sempre più protetto e coccolato. E la tua mente si lascia andare ancora di più, sempre di più. Tanto che quasi ti sembra di sprofondare in una nuova dimensione. Una dimensione dove sei totalmente rilassato, ma assolutamente in grado di percepire qualsiasi cosa. di immaginare tutto ciò che desideri con chiarezza e lungimiranza. Ti rendi conto con grande stupore che la luce che ti avvolge altro non è che la luce del sole. E che ti ritrovi su di una zattera che galleggia sulla superficie di un lago, immenso e totalmente calmo. Senza troppa fatica puoi percepire il profumo di legno bagnato sotto di te. E senti una leggera brezza carezzare il tuo viso ed il tuo corpo tutto. E questo ti rilassa ancora di più. Sempre di più. Il colore dell'acqua è di un verdino bluastro, un misto della rifrazione del cielo e degli arbusti che crescono rigogliosi sulle sponde di questo lago senza fine. Sullo sfondo alte montagne grigiastre si ergono a toccare il cielo. E tu non puoi far altro che lasciarti andare distratto e consolato. Nonostante le acque siano pacificamente calme, noti che una leggera corrente sta trainando la barca. Non importa sapere dove, non importa sapere come, ma adesso non devi fare altro che lasciarti andare alla deriva. Non c'è nulla da controllare in questo momento. E pacifico e rilassato ti lasci trasportare su queste chiare, fresche e dolci acque. E mentre la zattera scivola sul pelo dell'acqua, la tua mente scivola in pensieri meravigliosi e positivi. Ed inizi a renderti conto di essere in grado di aggiungere al paesaggio tutto quello che vuoi. Puoi aggiungere la presenza di alcuni animali sulle sponde, oppure puoi aggiungere antiche rovine sporgenti dalle acque, che un tempo erano piccoli borghi di villaggi dimenticati. Oppure puoi semplicemente immaginare antichi templi nelle profondità degli abissi. E continui a scivolare con la tua zattera, sempre più velocemente sul pelo dell'acqua. Mano a mano che la corrente continua a trainarti, ti accorgi che sempre di più una leggera nebbiolina ti avvolge in tutte le direzioni. Tanto che adesso non riesci più a visualizzare l'orizzonte infinito di questo lago. E non riesci più a distinguere con chiarezza il cielo dall'acqua o dalle montagne. Ti rendi solamente conto che la tua zattera si sta dirigendo verso un bagliore, che emerge potente dal retro della foschia in un punto preciso del lago. E mano a mano che ti avvicini a questo bagliore, ti senti sempre più concentrato, sempre più rilassato e tranquillo. Come se questa luce fosse il riverbero di qualcosa di cui ti fidi completamente e ti lasci andare trasportato in modo così pacato e docile. E finalmente riesci ad entrare in questa meravigliosa luce e quello che si para dinnanzi ai tuoi occhi è una visione meravigliosa, seppur ancora tutto avvolto da quella leggera nebbiolina. Adesso è come se avessi cambiato pianeta, come se davvero fossi riuscito ad entrare in un mondo parallelo, dove sei esattamente tu ad avere le redini. hai il totale controllo della situazione, tutto ciò che vedi è malleabile, lo puoi creare, modificare, eliminare a tuo piacimento senza dover rendere conto a nessuno e senza dover fare alcuna fatica. Ti basterà semplicemente desiderarlo nella tua mente. comprendi ora che la luce di cui tanto ti fidavi altro non è che una guida e può essere chiunque tu voglia, può essere una persona a te cara, può essere un personaggio di un mondo fantastico, può essere anche un animale che ti rappresenta. Scegli con cura la tua guida e visualizzala in modo davvero dettagliato. essa ti condurrà nel mondo in cui vuoi cambiare la tua realtà. Questa figura si avvicina al tuo orecchio e ti sussurra una parola. questa parola puoi conoscerla soltanto tu e ti permetterà di accedere al mondo da te selezionato. Pronuncia questa parola più volte nella tua mente al fine di ricordarla. magari è anche una parola che per te non ha alcun significato, ma ti assicuro che ti sarà fondamentale per effettuare il passaggio. adesso immagina di trovarti in piedi davanti alla foschia che ti avvolge. dietro di essa, spiadito, il mondo che hai creato, quel mondo che vuoi vivere a pieno. ecco che adesso non dovrai far altro che pronunciare quella parola ad alta voce. e come per incanto vedrai all'istante la foschia dissolversi, come spazzata via da un vento caldo ed istantaneo. e adesso tutto è nitido. tutto è chiaro. sei nel luogo meraviglioso che avevi scelto. pronto a viverlo a pieno. pronto a lasciarti catturare dalle avventure che potrai finalmente vivere in questo posto incantato. ricorda che qui tutto è plasmabile. tutto è malleabile a tuo piacimento. e quando vorrai tornare alla tua realtà corrente, non dovrai far altro che pronunciare nuovamente la parola suggerita dalla tua guida. e all'istante ti ritroverai nel luogo in cui ti sei addormentato. e adesso ti auguro buon viaggio. 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 grazie a tutti.